un saluto scusa un saluto a quella via camera ciao Giorgia auguri 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 scusate l'invasione un video così per la cronaca scusate l'invasione voi siete delle amiche di Giorgia? ah di un'università ok tanto poi ci mettiamo la musica sotto il sorriso ecco un bacio così poi mettiamo la musica ok grazie